Sandro Scapellato di Elvezia Assicurazioni. Il modello di marketing sta incominciando a cambiare. Si sta passando da un cercare nuovi clienti a un attrarre nuovi clienti. Come collega Elvezia Assicurazioni questo nuovo modello di marketing con il tradizionale canale di vendita degli agenti? Sì, in effetti i clienti sono cambiati, i clienti sono diventati molto più digitali. Rispetto a qualche anno fa cominciano a cercare direttamente loro delle soluzioni a delle esigenze che pensano di avere. Per far questo noi ci siamo attrezzati per intercettare la richiesta dei clienti, intercettandola attraverso i nostri canali digitali, quindi intercettando la richiesta che un cliente fa su un determinato canale e sulla base di questo veicolare poi la risposta sul canale professionale. Quindi abbiamo fatto questa ibridazione della proposizione, l'ibridazione della soluzione al bisogno della clientela e l'ibridazione sostanzialmente consiste nell'intercettare il bisogno sul mondo digitale ma veicolarlo con una consulenza sul canale tradizionale. È una cosa che funziona, abbiamo già vari esempi sia nel mondo della piccola e media impresa che nel mondo della copertura del caso morto e quindi per le temporane caso morte. Vediamo che l'interesse c'è, il cliente percepisce questa esigenza, cerca delle soluzioni e la nostra scelta, come dicevo prima, è di veicolare questa soluzione sul canale professionalizzato che possa dare la miglior consulenza possibile al cliente. Il cliente diventa un cliente ibrido anche se non lo sa, ma in questa ibridazione noi vediamo delle grandi opportunità per soddisfare i bisogni assicurativi di tutti.